L'estate in città da sempre è realizzata dal comune di Pordenone assieme alle associazioni cittadine per valorizzarne l'operato e favorirne lo sviluppo. In questo senso la manifestazione è lo specchio della vivacità culturale e sociale pordenonese, testimoniando un percorso in costante crescita. Tante associazioni ogni anno mettono a disposizione dei concittadini e degli ospiti la loro passione e il frutto di un lavoro costante, che dura tutto l'anno e ad esse si aggiungono di volta in volta preziosi apporti da realtà fuori provincia e talvolta anche fuori regione. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. L'estate in città è continua sino a fine di agosto con oltre 200 appuntamenti a dimensione giovani, bambini, famiglie, un po' per tutti i gusti, con eventi per tutti i gusti. Shopping, cultura, danza e spettacolo sono le parole chiave dei giovedì sotto le stelle del comune di Pordenone. Piazza 20 Settembre è stata trasformata in una sala da ballo all'aria aperta, con un tema differente e molto particolare come il tango, che ha animato e appassionato tantissima gente. Mentre Proloco Pordenone e Crai di Carlette si sono occupati dell'anguriata, della gara di briscola e delle animazioni per bambini. La serata ha avuto un notevolissimo successo, le vie del centro si sono animate di tantissime persone, quindi questo testimonia il successo delle manifestazioni dell'estate in città, sia anche il successo della collaborazione tra enti diversi come comuni o associazioni di categoria. Ci auguriamo anche che adesso questo successo sia confortato anche con un riscontro economico positivo dei negozi aperti. Grazie a tutti.